e dunque Martino Lucatello lo abbiamo detto è stato argento ai campionati italiani giovanili nei cento farfalla così come nei cinquanta stile libero nei cento farfalla in quell'occasione aveva nuotato cinquantaquattro e sessanta sei argento confermato poi in Vasca Lunga ai categoria estivi di Roma qui il miglior tempo di qualificazione il suo in cinquantacinque e zero nove un tempo di passaggio di venticinque ottantuno davanti a Barbera ventisei e cinquantotto Giuseppe De Caro in terza posizione ventisette e quattordici primato della manifestazione cinquantaquattro e ottanta di Cesare Sciocchetti un primato dunque a rischio in quanto Martino Lucatello ha nuotato cinquantacinque zero nove nelle qualificazioni solitario si invola alla vittoria della farfalla junior Martino Lucatello cinquantaquattro e sessantaquattro per lui davanti a Barbera cinquantasette e quarantanove Antollovic cinquantanove e venti